Il Country Sport di Picarelli, in questi giorni, è centro nevralgico del tennis savellinese e non solo, con il torneo Open RT Metalli Terzo Memorial Aldo Nazaro. Tanti match ogni giorno, con protagonisti giovani dalle belle, bellissime speranze. Nella giornata di sabato, uno degli incontri più appassionanti ha visto coinvolto Francesco Taccone, classe 2002. Questo è il secondo anno che partecipo al Memorial. Oggi la partita è andata abbastanza bene. Ho giocato contro il mio compagno di allenamento e quindi la partita era un po' sentita. Però tutto sommato è andata bene. È una grande opportunità perché il country è uno dei circoli più importanti del sud. e sono molto orgoglioso di rappresentare il mio circolo. Mi trovo molto bene con lo staff, sia dal punto di vista tecnico che in campo. Il suo avversario, che ha ovviamente contribuito a rendere il match combattuto, è stato Loris Tuccia, classe 2003. Il mio rapporto con il tennis è bellissimo perché per me è vita. Stare nel campo è quello che mi fa stare bene. Parlando della partita di oggi, ho giocato un buon match. Ho avuto come avversario Francesco, che ha giocato una partita molto buona. È stato solido, soprattutto con il servizio. Io non sono riuscito a trovare la profondità e quindi lui entrava facilmente nel campo. Solo che in alcuni casi sono stato bravo anche io a interpretare il punto. Il mio rapporto con i coach è molto buono. In questo abbiamo uno staff molto buono, di cui il maestro Guido Nazaro e il maestro Emberani Lorenzo, dove ci alleniamo ogni giorno con loro, facciamo preparazione fisica. Parlando di questa struttura, è una delle strutture più buone del sud Italia. Abbiamo campi coperti di tutte le superfici e come struttura è ottima perché abbiamo a disposizione palestra, piscina e quindi riusciamo ad allenarci al meglio delle nostre possibilità.